Amore, ho visto che hai preso i 300 euro, sei andata a pagare la bolletta? Ma quale bolletta? Sono andata al negozio di intimo Al negozio di intimo? Ma se ti avevo detto di andare a pagare la bolletta? Oh, senti, a me mi pare che ieri sera ti è piaciuto l'intimo, o sbaglio?